Dopo il sequestro di beni di circa 45 milioni di euro eseguito nei giorni scorsi dalla DIA di Caltanissetta nei confronti dell'imprenditore Paolo Farinella, scatta un nuovo provvedimento del Tribunale di Caltanissetta. Si tratta in particolare della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta su altri beni intestati formalmente ai familiari del cugino, Cataldo Farinella defunto, rientranti nella disponibilità di Paolo Farinella. Provvedimento disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Nisseno su proposta della locale procura della Repubblica ed è stata notificata dalla DIA e applicata su ulteriori 200 ettari di terreno, inclusi i fabbricati, sui quali si estende il feudo Mimiani. La durata della misura è stata determinata nel periodo di sei mesi.